Ciao ragazzi, oggi vi regalo un bel leak che spesso utilizzo io nelle improvvisazioni. Ora ve lo suono lentamente. Qui sotto nella descrizione del video trovate la tablatura gratuita da poter scaricare per appunto provare l'esercizio a casa. Non è obbligatorio provarlo alla velocità della luce ma bensì è bene provarlo lentamente, apprendere bene il gesto e far tesoro del potenziale tecnico che ha l'esercizio. Ricordo che se vuoi iniziare un percorso individuale con me puoi contattarmi via mail oppure con un messaggio privato sui miei social. Ti invito anche a provare il mio videocorso sulla tecnica con oltre 42 video tra esecuzioni e spiegazioni ad un prezzo veramente conveniente. Lascio il link qui sotto al mio sito dove potrai trovare anche una lezione gratuita per appunto provarlo e vedere se fai caso tuoi. Ci vediamo presto. Pro qua.